Con il dottor Cesare per avere le spiegazioni di questo macchinario, se tra virgolette, per le analisi. È uno strumento di grande unità, perché in pochi minuti la persona con le conoscenze di dati, dove per il passato ci volevano i ragioni, glicemia, colesterolo, HDL, LDL, transaminasi, in pochissimi minuti, una grande comodità, una riduzione nel campo dell'autoanalisi. L'autoanalisi avviene in giro di 5 minuti, è il tempo di rilevare un ago, usa e getta, viene fatta una piccola puntura sul colpastrello, si preleva questo sangue capillare, non è venoso, e si introduce in questo capillare di vetro. Poi il sangue verrà depositato su una stricciata reattiva, e una volta introdotto nel reflux, verrà nel giro di un minuto, un minuto e mezzo. I dati essenziali per il costo, un minuto? Il costo della nostra farmacia è veramente molto economico, ci prendiamo 3 euro per l'analisi della vicendina e del colesterolo. E' un servizio che vogliamo dare alle nostre amici. Saluti a tutti i nostri amici. Grazie.